Guardate che cosa ho nelle mani, lo apro, piano, pura luce, pura luce, e poi lo richiudo. Questo effetto, lo riapro, è molto difficile da realizzare, ma veramente difficile, sfido Spielberg a realizzarlo, perché è difficile, se fai così e basta, ci riesce anche qualcuno, se però già lo cominci a spostare, diventa difficile, ma farlo chiudere nelle mani, è questa la cosa, sfido veramente, qui faccio una sfida a Spielberg, prova un po' a farlo a Spielberg, e tu che mai letto la mia sceneggiatura e non l'ha voluta dirigere, ecco qua, wow, fa questo se ci riesci, a Spielberg, fallo un po', ecco, questa è la cosa difficile, spostarlo nell'ambiente, farlo sparire dentro le mani, rifarlo apparire, questo è difficilissimo, punto, a Spielberg ti lancio una sfida, fallo tu se ci riesci, zagate, 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 ciao Spielberg, ci vediamo quando mi dirigi il film che ho scritto io, ho scritto io, eh, uh, uh, ciao.